Buonasera, siamo per il secondo incontro, rubo qualche minuto al professor Di Luzio solo per cercare di giustificare una sorta di raccordo tra l'incontro precedente e quello di oggi e far capire un po' la coerenza del ciclo di incontri che stiamo tenendo qui alla casa della cultura e che peraltro qualcuno sta ascoltando in streaming. Detto questo, l'idea che abbiamo avuto, che era quella di trattare della legge 107 a partire da un punto di vista esclusivo che era quello della didattica, della trasformazione radicale che la legge comporta sia dei contenuti sia delle metodologie di insegnamento, mi è sembrata nell'arco di questo mese che è passato dal primo incontro esatta, corretta, perché anche il governo sembra che sia ossessionato e continua a intervenire con una incredibile velocità proprio su questo tema, stravolgendo, promettendo di stravolgere quella che è la programmazione, i programmi come li abbiamo sinora concepiti. Ecco, già l'altra volta in occasione del primo incontro io ho fatto cenno a quel documento dedicato alla scuola digitale e qualcuno si era mostrato un po' perplesso rispetto alla radicalità dei contenuti che io avevo illustrato, che riguardavano due aspetti. Da una parte la completa sottovalutazione della figura docente, che veniva considerata una figura il cui bagaglio professionale era ormai inservibile, che andava azzerata e riformata sulla base di nuovi contenuti metodologici e che con linguaggio paternalistico il provvedimento si proponeva di accompagnare verso questo nuovo sapere. Dall'altra l'utilizzo per chi non fosse riuscito in modo positivo a soddisfare queste condizioni era quello di mettergli a disposizione delle unità didattiche elaborate dall'esterno e come aveva poi commentato il professor Ferroni il provvedimento metteva seriamente a rischio il diritto alla libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione. Ebbene, non è passato neanche un mese e abbiamo avuto una settimana dopo il decreto attuativo su quello stesso provvedimento. Entro il 10 dicembre le scuole hanno dovuto nominare l'animatore digitale, il quale deve scrivere una parte del PTOF che deve essere concluso entro il 15 gennaio, eppure nonostante siamo al traguardo, nonostante alcune scuole l'abbiano già elaborato, il Ministero continua a intervenire con informazioni e prescrizioni aggiuntive che stravolgono il lavoro già fatto. Poi abbiamo altre novità, abbiamo avuto un documento di programmazione per l'anno 2016, quindi non so bene cosa voglia dire, se è rispetto per il prossimo anno scolastico già da gennaio, il quale nel primo punto chiarisce già che sulla base delle nuove urgenze di carattere sociale e sulla base di alcune priorità che la nuova scuola si propone, competenze linguistiche, nuove alfabetizzazioni, quindi competenze economiche, uso critico dei media, pensiero o computazionale, è necessario ripensare programmi e percorsi di insegnamento a tutti i livelli per poter soddisfare pienamente le nuove esigenze degli studenti, senza che gli studenti siano stati interpellati, meno che meno i docenti, i quali si vedono calare dall'alto questa idea che sia necessaria per ragione oggettiva modificare i programmi senza previa consultazione, senza un dibattito che sia stato in qualche modo socialmente col diviso su quali sono le discipline importanti che devono più o meno essere potenziate. L'ultimo, nel mentre in tutte le scuole il nuovo piano triennale dell'offerta formativa è stato praticamente definito, è arrivato un documento di orientamento sulla scrittura del PTOF proprio l'altro ieri, che rimette un po' le carte in gioco, dove i docenti hanno cercato di incunearsi tra le maglie della normativa per difendere il loro lavoro, questo documento si preoccupa a far sì che queste maglie siano sempre più strette, imponendo di fatto alcune novità sul piano didattico che andrebbero radicalmente a cambiare la natura del nostro lavoro. Viene detto con un linguaggio sempre tra il paternalistico e il minatorio che sostanzialmente il prossimo anno scolastico, il 2016 e il 2017, introdurremo queste novità, ma dall'anno dopo si va a regime, la scuola deve essere totalmente trasformata, le didattiche, le discipline totalmente cambiate. E sia chiaro che si parla in questi testi tantissimo di autonomia, ma di autonomia non ne resta sostanzialmente, non c'è nessuna concessione, perché queste direttive sostanzialmente obbligano a una comunicazione, a un'assunzione dei contenuti che è sempre identica. La libertà didattica è prima di tutto metodologica piuttosto che contenutistica e ovviamente in questo caso l'autonomia starebbe solo. I destinatari di questi documenti sono i dirigenti, sono i vari dirigenti dell'USR, sarebbe solo dall'alto una serie di prescrizioni che poi le scuole possono realizzare cambiando con discrezionalità il quadro orario, il personale, utilizzando le classi di concorso in modo molto meno rigoroso dell'attuale. Detto questo, la mia impressione quindi che noi abbiamo fatto bene a concentrarci su questo tema, perché il tema caldo sul quale i docenti per quanto annichiliti sono molto sensibili. Ho partecipato recentemente a tre incontri, tre convegni di carattere sindacale, ho notato che i vertici nazionali sono su un altro pianeta, non si interessano ai temi di didattica, li ritengono sostanzialmente corporativi e non sono minimamente in relazione con quelli che sono i disagi concreti di chi vede dall'oggi al domani cambiare il proprio lavoro. Però invece da parte dei docenti c'è un'estrema preoccupazione, una volontà in teoria di non rassegnarsi affatto a una riforma che molti mi hanno definito inemendabile, senza peraltro però che ci sia il modo di trovare un coagulante e una possibilità di unirsi per un'azione di resistenza anche culturale comune, per cui rimane valido il nostro progetto, parlare anche poi in qualche modo ridiffondendo il filmato di questo incontro a tutte le componenti della comunità scolastica, dai dirigenti, ai colleghi che in qualche modo devono essere rimotivati sulle loro ragioni, sperando che questo dia forza iniziative comuni e ai genitori che sono destinatari di una campagna propagandistica che li solletica promettendo per i loro studenti miglioramento in alcune competenze fondamentali, ma in realtà questa è un po' la tesi che noi abbiamo portato avanti anche l'altra volta, se passasse questa riforma della scuola gli effetti sul piano culturale cognitivo della possibilità di competere degli alunni in futuro sarebbero totalmente ridimensionati. Passo adesso la parola al professor Di Luzio, docente dell'Università di Bergamo, storia della pedagogia. Lui ha pubblicato recentemente un libro che mi hanno adesso preso, lo vi faccio vedere, Libro senza educazione che è un libro che riflette sul modello di scuola 2.0, non parleremo di questo però è un libro che il professore peraltro vorrebbe presentare anche nelle scuole, sarebbe bene che nelle scuole si dibattesse di questo strumento digitale con cui si va a intervenire sulla nostra metodologia, per il mulino un testo che io ritengo fondamentale è la scuola degli italiani, edito 7 anni fa per il mulino, il titolo è 20 anni di buona scuola, è un tema che molti di noi hanno dibattuto, se questo esito radicale di trasformazione della scuola italiana sia il frutto di una decisione improvvisa oppure sia l'esito storico di una deriva, di una concezione della cultura della scuola e della distruzione che dura ormai da molto tempo. Do la parola al professor Di Luzio, grazie. Grazie dell'invito e di questa opportunità di discussione, il titolo del mio intervento è 20 anni di buona scuola e la proposta che vi faccio è quella di leggere la buona scuola, non come il parto improvviso di un governo di rottamatori che segnala anche in questo modo la sua novità, la sua irriducibile novità sulla scena politica italiana, quanto piuttosto il punto di approdo di un processo che è cominciato molto tempo fa. Un processo che è cominciato da noi, perché poi come cercherò di dirvi le cose non sono soltanto italiane, ma riguardano uno spazio politico e ideologico più vasto, è cominciato da noi in coincidenza con quello che noi siamo stati abituati a chiamare il crollo della prima repubblica. All'inizio degli anni 90 giunge a compimento un processo storico che era cominciato nel 1945, grossomodo che è stato un processo storico gigantesco che ha portato l'Italia dentro la sfera della società culturata. L'Italia che usciva dalla seconda guerra mondiale era un paese che aveva tracce, segni enormi di arretratezza culturale, i livelli di scolarizzazione degli italiani italiani erano bassissimi rispetto agli altri stati europei, la scuola democratica ha svolto questa funzione di portare gli italiani dentro lo spazio della cultura alfabetizzata ed è un processo che si è compiuto nell'arco trentennale, più che trentennale che va grossomodo dal 1950 al 1951 al 1985. Diciamo così che la scuola italiana giunge alla soglia degli anni 90 avendo portato a termine in maniera anche molto egregia il coppito che era stato assegnato all'Indomani. Ora questa scuola era stata sostenuta nella sua funzione, nel suo ruolo da culture politiche che l'avevano legittimata, l'avevano riconosciuta, gli avevano attribuito un compito storico di grandissima importanza. Queste culture politiche erano culture politiche della cosiddetta prima repubblica, il cattolicesimo politico innanzitutto, ma anche e soprattutto il marxismo italiano, il comunismo italiano nella sua versione gramsciana. Entrambe queste culture politiche che riconoscevano alla scuola un ruolo di prima grandezza, non una scuola che dovesse preparare il lavoratore, che dovesse addestrare, ma una scuola che doveva fondare il cittadino, doveva costruire il cittadino democratico. Questo è stato il compito, declinato, giustificato in maniera differente sui versanti opposti del grande scontro ideologico che è stato quello della seconda metà del Novecento, ma l'idea era che la scuola dovesse essere parte costitutiva del processo di costruzione della democrazia italiana. Una democrazia che non era soltanto un insieme di istituzioni di carattere formale, ma era innanzitutto una serie di costumi democratici. Questi costumi democratici dovevano essere i contratti dello spazio educativo. Ora, a partire dalla fine delle culture politiche della seconda metà del Novecento, perché nel 1992-93 finiscono i partiti, ma finiscono soprattutto le culture politiche che avevano sostenuto quei partiti, la scuola italiana resta senza punti di riferimento, resta senza un linguaggio di legittimazione. E allora comincia un lungo viaggio alla ricerca di un nuovo compito. Questo compito ha impegnato questi vent'anni, che sono stati caratterizzati da un fenomeno molto significativo, che possiamo provare a riassumere in questi termini. Non c'è stata maggioranza politica che si è avvicendata al governo del Paese, che non si sia presentata sulla scena pubblica nazionale senza al tempo stesso fornire la sua versione di buona scuola. Perché che cosa è stata il progetto di riforma della scuola di Berlinguer, che cosa è stato il progetto di riforma della Moratti, che cosa è stato l'intervento della Germini e così via, se non una versione di volta in volta diversa di quella che le maggioranze politiche che conquistavano il poedetto in Italia ritenevano dovesse essere la buona scuola. Renzi ha, diciamo così, indovinato lo slogan, ma di fatto la fine della Repubblica dei partiti coincide con la fine della scuola democratica e con l'inizio di un nuovo ciclo, che è quello segnato al tentativo di costruire una scuola per un Paese che aveva, diciamo così, conseguito ai livelli di alfabetizzazione che avevano giustificato, diciamo così, l'impianto del modello scolastico precedente. Non c'era più il comunismo gramsciano, non c'era più il cattolicesimo politico e di conseguenza la scuola italiana e gli insegnanti sono rimasti sostanzialmente privi di un riferimento ideologico forte. Gli insegnanti che si sono avvicendati, le generazioni di insegnanti che si sono avvicendate nella scuola italiana, negli anni 50 in avanti esercitavano la loro funzione nel nome di una serie di ideali che erano codificati e organizzati da forze politiche che mobilitavano milioni di persone. L'insegnante elementare cattolica che a partire dal 1955 esercitava la sua funzione nel quadro dei programmi ermini che vorrei ricordarvi sono rimasti in funzione perfino al 1985 dimostrando appunto una longevità, una tenuta e una stabilità di strutture culturali che la scuola italiana ha semplicemente smarrito dopo di allora, perché dopo di allora i programmi, le indicazioni nazionali si sono succedute a un ritmo forse in alto, mentre invece quella scuola che noi chiamiamo democratica si era svolta nel quadro di una stabilità degli ordinamenti straordinari. Ecco, l'insegnante elementare che entrava in classe, che esercitava la sua funzione nel quadro dei programmi ermini e non era soltanto l'insegnante cattolico, ma era anche l'insegnante del movimento di cooperazione educativa, ad esempio, era anche il giovane insegnante Mario Lodi, ad esempio, il quale riteneva che i programmi ermini erano comunque interessanti, diciamo così. Quell'insegnante entrava in classe di fronte ad una platea di figli di contadini analfabeti, sapendo con precisione qual era il suo compito, prendere quei contadini e portarli lontano dal luogo in cui erano nati. E il luogo in cui erano nati era un luogo di miseria, era un luogo di subalternità culturale, non era un luogo di emarginazione linguistica. Quella scuola funzionava sulla base di questo gigantesco mandato politico ideologico, prendere i figli dei contadini e portarli dentro uno spazio culturale moderno, che era fatto di lingua grammaticalizzata contro il dialetto, era fatto di riferimenti alla storia nazionale, che erano i personaggi, che erano i nomi gloriosi della letteratura italiana. Quello è stato il grande progetto. Ora, a partire dagli anni 90, per la scuola elementare a partire, diciamo sì, da alcunquennio 1985-1990, qual è il compito dell'insegnante? Qual è il compito dell'insegnante elementare? Qual è il compito del professore di scuola secondaria? Questa cosa resta, diciamo sì, sotto un gigantesco punto interrogativo. Perché? Perché i modi di giustificare il proprio ruolo diventano, diciamo, estremamente frammentari. Si impone a partire, diciamo sì, nel corso agli ultimi vent'anni, con una forma, diciamo sì, con una perentorietà sempre più indiscutibile, l'idea che la scuola debba in qualche modo preparare alle professioni, debba agevolare quel transito tra mondo della formazione e mondo dell'impiego, che sembra essere diventato il, diciamo così, l'imperativo morale del nuovo, della nuova scuola. Di qui, diciamo così, due, diciamo, movimenti ideologici di carattere più generale. Da un lato, diciamo sì, la svalutazione dei saperi di carattere umanistico, a vantaggio di un orientamento prevalentemente tecnico-professionale, che si concreta, ad esempio, sul piano, diciamo, delle proposte concrete delle politiche, ad esempio, con questa enfasi messa sull'alternanza scuola-lavoro, un'alternanza scuola-lavoro che sembra ormai pervadere qualsiasi ambito scolastico. La scuola secondaria, addirittura la scuola elementare e l'università. Il compito della scuola sta, diciamo così, nel preparare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro. Dietro questa cosa c'è, diciamo così, qualcosa di estremamente imponente, che è la disoccupazione di massa dei giovani. È chiaro, a partire dagli anni Ottanta la disoccupazione strutturale di massa dei giovani, diventa, diciamo così, il tema centrale e dominante delle società occidentali. E la mia proposta è quella di leggere la disoccupazione come una struttura pedagogica. Cioè, la disoccupazione educa. La disoccupazione educa, innanzitutto, ai giovani ad abbassare il livello delle loro aspettative. Il compito della disoccupazione è disciplinare le masse giovanili e imporre alle famiglie l'idea che la scuola cessi di essere il luogo della formazione intellettuale per diventare un generico dispositivo di addestramento. Diciamo così, se un tempo la scuola era il luogo del training, a partire dagli anni Ottanta-Novanta e con un ritmo crescente negli ultimi vent'anni, la scuola diventa il luogo di una generica trainability, cioè di una generica disponibilità a lasciarsi addestrare. Lì, se ci fate caso, ed è questo il secondo movimento connesso a quello di cui parlavo prima, sempre di più il tema della scuola cessa di essere ciò che si insegna, i contenuti dell'insegnamento e diventano sempre di più le pratiche. In fondo, questa idea che ciò che conta nella scuola non è più il sapere, ma il saper fare, questa cosa che ha, diciamo così, eccitato generazioni di insegnanti, dice soltanto una cosa, che quello che conta nella scuola sta fuori della scuola, è il mondo dell'esperienza. I contenuti intellettuali dell'insegnamento smettono di essere la parte più importante della destrazione delle giovani generazioni e il centro, il fulcro, diciamo così, dell'azione educativa si sposta dai contenuti intellettuali alle pratiche, di cui, diciamo così, le competenze, altra parola che manda invisibilio gli insegnanti. Il ministero, però bisogna, su questo, questo gli insegnanti dovrebbero fare, diciamo così, un esame di coscienza, un esame di coscienza, perché il tratto, diciamo così, dominante del discorso pubblico sulla scuola è l'ascissione tra le parole della scuola e le parole della politica. Cioè la scuola ha, diciamo così, fatto proprio, in questi ultimi vent'anni, un linguaggio astruso, fatto di tecnicismi che non hanno niente da dire alla società e che hanno da dire soltanto ai professionisti dell'educazione. La didattica per computer è una formula in politica, è una formula che appassiona gli esperti, è una formula che appassiona gli specialisti, gli studiosi di didattica, gli insegnanti che sono appassionati del loro mestiere, ma che è incapace di costruire fuori della scuola alleanze politiche nella società, perché nessuno capisce che cosa vuole dire didattica per competenze. Non ha, diciamo così, effetti se non all'interno del farsi del lavoro scolastico quotidiano. La didattica per competenze è il passaggio dalla centralità del contenuto alla centralità della pratica, dalla centralità del training alla centralità della trainability. Che cosa vuol dire questo passaggio dal training alla trainability? Vuol dire che la scuola si deve adeguare alle richieste di conformità che vengono dal sistema delle imprese. Cioè il compito della scuola cessa di essere la fondazione e l'autonomia intellettuale della persona e diventa quella della conformazione di una serie di abiti comportamentali che sono coerenti con ciò che viene richiesto dal mercato del lavoro. Questo, diciamo così, ridislocazione radicale fa impressione il modo con il quale questa cosa è passata nella più totale disattenzione, questa ridislocazione della scuola sul terreno di ciò che è funzionale a una nuova forma dell'organizzazione del lavoro è, diciamo così, l'elemento dal punto di vista della storia culturale del nostro paese più rilevante. Come questa cosa sia accaduta nel totale vuoto, del totale vuoto di risposta culturale articolare, proprio perché il discorso della scuola è stato depoliticizzato. Il trionfo dell'argomento economico nella discussione di ciò che conta nell'educazione ha, diciamo così, tappato la bocca a tutti. Di fronte all'imponenza dei fenomeni legati alla crisi economica, di fronte all'imponenza dei fenomeni legati alla disoccupazione, nessuno ha trovato il coraggio intellettuale di argomentare un punto di vista alternativo. Allora, quando noi discutiamo di scuola, dobbiamo innanzitutto tenere presente che stiamo discutendo di un passaggio di orizzonte che al tempo stesso è ideologico e politico e che in questa, diciamo così, inversione del ciclo, dal mio punto di vista c'è uno spartiacco molto netto che si colloca tra la seconda metà degli anni 70 e gli anni 80 che determina un'inversione del ciclo e dalla scuola democratica in cui al centro c'era la formazione del cittadino, cioè di un individuo che doveva innanzitutto padroneggiare il linguaggio pubblico. Il compito dei saperi umanistici sono saperi democratici perché sono un addestramento del giovane all'arte civile del discorso. Il padroneggiare strumenti grammaticali complessi e il padroneggiare un linguaggio culturale articolato serve a niente se non a stare consapevolmente sulla scena pubblica. E cioè, saper leggere, detta in maniera molto banale, saper leggere i sannari, saper decodificare il linguaggio del politico e saper prendere senza timore la parola in pubblico e esprimere con chiarezza il proprio punto di vista. A questo serviva la formazione umanistica e la centralità della cultura generale. Questo, diciamo così, contenuto della scuola democratica è stato messo in secondo piano a vantaggio dell'idea che al centro della scuola ci dovesse essere appunto tutto quello che aveva a che fare con la contrazione di abiti, o di abitus detta, alla latina, che erano funzionali alla possibilità di essere impiegati. E siccome, diciamo così, il mercato del lavoro è essenzialmente un mercato del lavoro in cui le opportunità che vengono offerte al giovane sono, tendenzialmente, leggo in intensità, cioè ad altissima intensità di lavoro e a bassissima qualificazione professionale, fondamentalmente questa scuola non doveva più, diciamo così, incaricarsi di formare cittadini che parlassero linguaggi complessi e sottisticati, ma semplicemente trasformarsi in un dispositivo burocratico destinato, diciamo così, alla scuola, alla trattamento di una moltitudine sommariamente scolarizzata. Allora, se questa descrizione è vera, come io dal mio punto di vista credo sia vera, voi potete riconoscere in questo passaggio la vostra condizione professionale. La vostra condizione professionale è sempre più caratterizzata da una richiesta molto forte che viene di ridurre il contenuto di sapere e di, diciamo così, accentuare le dimensioni cosiddette professionalizzate. C'è stata una sostituzione vastissima di curricula, da curricula, come dire, incentrata sul modello della cultura generale a curriculum tipo vocazionale professionale. Un altro modo per leggere questo passaggio è la polemica contro il liceo classico. La polemica contro il liceo classico, che si è, diciamo così, potuta vestire di molte sciocchezze, diciamo così, di sinistra, il liceo classico come il prevetto di borghesia, il liceo classico come scuola dei Pierini, un altro mito, diciamo così, che ha devastato la cultura della scuola italiana, cioè la lettera di una professoressa di Don Lorenzo a Milani, ha, diciamo così, saldato nella coscienza del centro medio italiano l'idea che questa scuola fosse una scuola della pregabilitazione sociale, fosse una scuola della diseguaglianza e che quindi qualsiasi, diciamo così, spostamento a vantaggio di un altro tipo di istruzione, fatta di cose concrete, fatta dell'orgoglio del mestiere, fatta di professione, fosse un vantaggio per la democrazia. Ma, la demolizione del primato del liceo classico, la scuola italiana ha conseguito essenzialmente due tipi di risultati, con la sinistra e con le idee di democrazia, non hanno niente a che fare. Primo, ha sottratto alla scuola italiana i criteri della propria qualità, perché naturalmente ha sottratto alla scuola italiana un vertice, sulla base del quale la scuola italiana potesse, diciamo così, interiorizzare lo standard della propria qualità. laddove c'era un percorso scolastico difficile, laddove per diventare insegnante in quel tipo di scuola bisognava sottoporsi ad un trenico molto rigoroso, la scuola italiana poteva, come dire, rivendicare, di custodire in se stessa i criteri della propria qualità. Quando questo è stato demolito, la scuola italiana ha dovuto richiedere la valutazione ad apparati burocratici esterni. È chiaro? L'Handvur per l'università, l'Imbazzi per la scuola elementare. D'accordo? Il secondo passaggio molto importante è stato dire, hai figli di un ceto medio spaventato e culturalmente disorientato, quella scuola non fa per te ed è meglio se tu vai a fare la scuola tecnica e professionale. Cioè, è meglio se tu ti assegni ad un destino sociale di tipo subalterno, perché poi la scuola è una scuola per lì. In fondo, il paradosso della polemica del conto di ceolastico è stato un nuovo forma di sequestro dell'istruzione culturale di livello superiore a vantaggio dei centri privilegiati. Perché il messaggio che è stato diffuso è che le persone che hanno necessità di sbarcare il lunario è meglio che non coltivino nelle teste dell'ordini grilli che possono, diciamo così, risultare controproducenti. Il processo di disciplinamento che è passato attraverso la riforma della scuola è imponente ed è avvenuto ancora una volta in un vuoto culturale. La fine delle grandi culture politiche italiane ha significato il fatto che alcune postazioni venissero sguarnite e che di conseguenza l'interpretazione dei processi sociali fosse interdetta, perché letteralmente non c'era più un linguaggio per leggere ciò che stava accadendo. Allora, questo è, diciamo così, il contesto generale all'interno del quale si inserisce il disegno della buona scuola. Il disegno della buona scuola che è, diciamo così, il punto di approdo di un lavoro ventennale che è appunto cominciato nella metà degli anni 90. La linea lungo la quale si è svolto questo lavoro di ristrutturazione del sistema scolastico italiano è innanzitutto l'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica, che è stato il grande mito della scuola di questi ultimi vent'anni, ha significato essenzialmente una dismissione dell'interesse dello Stato per il sistema dell'istruzione pubblica. Questa autonomia ha tuttavia dei tratti paradossali di cui naturalmente tutti gli insegnanti si sono accorti, perché è l'autonomia di niente, perché questa autonomia corrisponde ad una ricentralizzazione burocratica del sistema. paradossalmente nella scuola dell'autonomia la presa del potere politico sul sistema scolastico è molto più forte di quanto non fosse nel passato. Cioè la capacità impositiva dell'autorità centrale è molto più forte di quanto non fosse nel passato. Soltanto che questa autorità centrale non si manifesta più sul terreno dei contenuti culturali, ma si manifesta sul terreno della gestione della macchina burocratica. Perché? Perché lo Stato ha perso interesse al controllo ideologico della scuola, ma non ha perso interesse al controllo della macchina burocratica. Per cui le disposizioni che arrivano dal centro oggi sono molto più impositive di quanto non fosse nel passato. Perché voi, i dirigenti scolastici, se ci sono i dirigenti scolastici e gli insegnanti che sono all'opera nella costruzione dei piani di offerta formativa, sanno benissimo che i margini di autonomia di cui vogliono nella formazione di questi piani di offerta formativa sono strettamente definiti da linee guida che vengono emanate dal centro. Allora voi avete il paradosso di una scuola che è stata incentivata ad essere autonoma, ma che tuttavia dell'autonomia non ha gli elementi fondamentali. Cioè quelli di poter decidere come svolgere lungo quali linee, svolgere la propria funzione educativa. Questo perché? Perché la scuola, a rispetto di quello che si sostiene da parte dei teorici dell'autonomia, è un'istituzione pubblica di prima grandezza, perché regola un meccanismo fondamentale di funzionamento delle società moderne, cioè il monopolio della certificazione. Perché la certificazione educativa e la società delle credenziali educative sono meccanismi regolativi fondamentali della dinamica sociale, perché servono a legittimare la diseguaglianza. È possibile nelle nostre società, chiamiamole così, democratiche, sono in grado di concepire la diseguaglianza sociale esclusivamente in termini di diseguaglianza delle credenziali educative, le quali trascrivono i livelli della stratificazione sociale. Questa funzione fondamentale è ineliminabile dalle nostre società. Per cui tutti i discorsi che puntualmente vengono ripetuti, attacco alla scuola pubblica, avvantaggio della scuola privata, sono sbagliati, perché non tengono conto del fatto che la scuola pubblica in quanto, diciamo così, titolare, potere di emettere credenziali educative è da questo punto di vista insostituibile. Si possono, diciamo così, rideterminare gli equilibri tra il settore pubblico e il settore privato, ma mai potrà essere messo in discussione il primato che la scuola occupa da questo punto di vista. Quello che tuttavia è venuto meno in questi anni è l'interesse dello Stato a intervenire sul piano dei contenuti dell'insegnamento. I programmi sono stati, i programmi nazionali di studio sono stati le prime vittime della scuola dell'autonomia. Sono stati sostituiti da indicazioni nazionali che non sono altro che dei cataloghi generici di cose che devono essere insegnate e il modo in cui queste cose devono essere insegnate viene di fatto demandato poi alla libera iniziativa delle scuole. Con effetti dal punto di vista dell'uguaglianza formativa disastrosi, perché questo autorizza il sistema a strutturarsi sulla base di livelli differenti. Per cui voi avete delle scuole in cui si studiano certe cose e delle scuole in cui le stesse cose sono totalmente ignorate. Questo determina una perdita di contatto tra le istituzioni nazionali e le giovani generazioni. Il compito della scuola è sempre stato quello di tenere sotto controllo lo sviluppo intellettuale dei giovani, perché lo Stato, la Repubblica, chiamatela come vi pare, aveva interesse a provare a determinare il modo in cui le giovani generazioni ragionavano. Questo non significa, come dire, formare la mente, ma fare in modo che lo sviluppo intellettuale delle giovani generazioni avvenisse all'interno di un certo, diciamo sì, percorso. Questo percorso era al tempo stesso, diciamo sì, un percorso di libertà, perché poi con gli strumenti intellettuali ricevuti le giovani generazioni sarebbero stati, come hanno dimostrato di essere stati, in grado di fare negli anni 60 e 70, avrebbero voluto utilizzare quegli strumenti per, come dire, costruire una propria immagine alternativa del mondo. Ma l'idea era che la formazione dei giovani dovesse avvenire sulla base di un modello culturale che la società riconosceva come fondamentale. Ora, questo interesse specifico è venuto meno. È venuto meno. Da un punto di vista dei contenuti culturali il sistema educativo nazionale oggi è una cozzaglia di elementi eteropoli, di sommogeni, dove ci sono le sopravvivenze del vecchio modello umanistico, dove ci sono, diciamo sì, iniezioni di scienza e tecnologia e dove nei prossimi anni ci sarà una fortissima ingresso di elementi di carattere pratico-vocazionale. Allora, il tema della scuola che abbiamo di fronte è il venir meno della scuola come funzione pubblica, il venir meno della scuola come luogo decisivo della costruzione del legame culturale tra le generazioni. Quello che viene meno oggi, che è stato demolito in questi ultimi vent'anni, è l'idea della scuola come luogo della trasmissione culturale che tiene insieme i vecchi e i giovani. Il venir meno di questo legame tuttavia non significa una maggiore libertà delle giovani generazioni, ma significa semplicemente consegnare le giovani generazioni senza più difese alle forze del mercato. Significa determinare, diciamo così, il primato delle forze del mercato all'interno del sistema. Questo legame tuttavia non significa una maggiore libertà delle giovani generazioni, ma significa semplicemente consegnare le giovani generazioni senza più difese alle forze del mercato. Significa determinare, diciamo così, il primato delle forze del mercato all'interno del sistema scolastico nazionale, perché la scuola serve non più gli interessi della comunità politica, ma serve gli interessi della comunità economica, formando una forza lavoro sommariamente scolarizzata e tuttavia di cui con caratteristiche di mentalità e di abitudini che sono poerenti con le richieste che provengono dalla nuova organizzazione del lavoro. Allora, se c'è un tema, conclusione di questo discorso, che il mondo della scuola ha di fronte è l'identità della propria funzione e l'identità delle giovani generazioni. Cioè quali sono, diciamo così, i poli di aggregazione attorno ai quali si riconosce la funzione educativa, o la politica o l'economia. E in questa polarità politica ed economia c'è la polarità tra sfera pubblica e sfera privata, tra Stato e azienda. Questi sono i termini della scissione e da questo punto di vista, questi ultimi vent'anni sono stati il trionfo della sfera privata e dell'economia a svantaggio della costruzione del legame politico. La scuola c'è stato di essere il luogo dove si costruisce il legame politico tra le generazioni e deve diventare il luogo di un generico addestramento professionale di giovani che sono concepiti fin dall'inizio come futuri lavoratori. Allora, gli insegnanti hanno davanti a sé il compito di dire se si riconoscono in questa funzione oppure no. io mi fermo qui. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.